Ciao a tutti ragazzi, in questa video-lezione vogliamo risolvere il seguente esercizio. Scrivi l'equazione della parabola A con asse parallelo all'asse y che passa per A di coordinate 0,4, B di coordinate meno 1,0 e C di coordinate 2,6, B con asse parallelo all'asse x che passa per gli stessi punti. Cominciamo a ricordare qual è l'equazione di una parabola che ha asse di simmetria parallelo a quello delle ordinate. Talla equazione è y uguale a x al quadrato più bx più c. Per questa ragione, per imporre il passaggio per i punti A, B e C, dobbiamo impostare il seguente sistema. Per quanto riguarda il passaggio per il punto A, scriveremo nell'equazione al posto della y il valore 4, che è l'ordinata del punto A, al posto della x il valore 0, che è l'ascissa del punto A. Quindi si ha y, cioè 4, uguale a per x al quadrato, quindi a per 0 al quadrato, quindi 0, più b per x, quindi b per 0, quindi 0, più c. Otteniamo immediatamente c uguale 4. Imponiamo il passaggio per il punto B, in maniera del tutto analoga scriveremo y, cioè 0, uguale a per x al quadrato, in questo caso x uguale a meno 1, quindi a per meno 1 al quadrato, quindi a per 1, più b per x, x uguale a meno 1, quindi meno b. dovremmo scrivere più c, ma c è uguale a 4 dalla prima equazione, quindi possiamo scrivere direttamente più 4. Infine imponiamo il passaggio per il punto C e impostiamo la seguente equazione. y, cioè 6, l'ordinata del punto C, uguale a per x al quadrato, in questo caso x uguale a 2, cioè l'ascissa del punto C, quindi a per 4, 4a, più b per x, quindi x uguale a 2, 2b, più c, c è uguale a 4 dalla prima equazione, quindi più 4. Abbiamo un sistema di tre equazioni in tre incognite. In verità, avendo già sostituito c uguale a 4 nella seconda e nella terza equazione, possiamo considerare soltanto queste ultime due per risolvere il sistema. Abbiamo quindi, dalla seconda, a meno b uguale meno 4. Dalla terza, 4a più 2b uguale 2. Moltiplichiamo per 2 il primo e il secondo membro della prima equazione e scriviamo 2a meno 2b uguale meno 8. Ricopriamo la seconda equazione e scriviamo 4a più 2b uguale 2. Sommiamo a questo punto membro o membro le due equazioni e scriviamo 6a meno 2b più 2b fa 0 uguale meno 6, cioè meno 8 più 2, da cui si ha a uguale meno 1. Sostituendo adesso il valore appena ottenuto per l'a all'interno di una delle due equazioni, si ottiene direttamente b uguale 3. Ricordiamo che c uguale 4 lo avevamo già determinato precedentemente. In conclusione, la nostra parabola è la seguente. y uguale a x al quadrato, quindi meno 1 per x al quadrato, più b per x, quindi più 3 per x, più il termine noto c, che è 4. Quindi y uguale meno x al quadrato più 3x più 4. Passiamo adesso al secondo punto del nostro problema e cominciamo a ricordare qual è l'equazione della parabola che ammetto come asse di simmetria uno parallelo a quello delle ascisse. L'equazione è x uguale a y al quadrato più by più c. Anche in questo caso, quindi, si tratta di risolvere un sistema di tre equazioni in tre incognite. La prima equazione relativa al passaggio per il punto A è la seguente e si ottiene, sostituendo ad x e ad y all'interno dell'equazione, i valori 0 e 4, che sono rispettivamente la scissa e l'ordinata del punto A. Quindi si ottiene 0 uguale a per y al quadrato, y uguale a 4, quindi 4 per 4, 16a, più b per y, quindi più 4b, più c. L'equazione relativa al passaggio per il punto B, invece, è la seguente. x, cioè meno 1, uguale a y al quadrato, ma y uguale a 0, quindi 0, più b per y, quindi 0, più c, da cui si ha c uguale a meno 1. Infine c'è l'equazione relativa al passaggio per il punto C, che è la seguente. x, cioè 2, uguale a y al quadrato, y uguale a 6, quindi 36a, più by, quindi più 6b, più c. Per risolvere questo semplice sistema, cominciamo a sostituire il valore meno 1 al posto della C nella prima e nella terza equazione. Si ottiene al posto della prima la seguente, 16a, più 4b, al posto di scrivere più c, scriveremo meno 1, uguale a 0. Dalla seconda, invece, 36a, più 6b, al posto di scrivere più c, scriveremo meno 1, portiamo anche il 2 al secondo membro, che in questo caso è il primo, quindi meno 2, uguale a 0. Scriveremo ancora, per quanto riguarda la seconda equazione, 36a, più 6b, meno 3, uguale a 0. E, dividendo per 3 il primo e il secondo membro, 12a, più 2b, meno 1, uguale a 0. Moltipliciamo adesso per 2 ambo i membri della seconda equazione e, riscrivendo il sistema, si ha, ricopiando la prima, 16a, più 4b, meno 1, uguale a 0. E, moltiplicando per 2 ambo i membri della seconda, 24a, più 4b, meno 2, uguale a 0. A questo punto, sottraendo dalla seconda equazione la prima, otteniamo 8a, più 0, meno 1, uguale a 0, da cui si ha il valore per a, uguale ad un ottavo. Sostituendo adesso questo valore di a, all'interno di una delle due equazioni precedenti, si ha b, uguale, meno un quarto. Ricordiamo che c uguale a meno 1 l'avevamo già determinato in precedenza. Per questa ragione, la nostra parabola sarà la seguente. x uguale a per y al quadrato, quindi un ottavo, y al quadrato, meno un quarto y, più il termine noto, quindi, meno 1. Bene ragazzi, per quanto riguarda questa video lezione non c'è altro. Sperando che sia stata chiara, vi ringrazio per averla seguita.